Il fallo dell'ex attaccante di Ladispoli Il tiro clamoroso, bellissimo, il gol di Oggiano Sembrava fallo di cartella, le proteste del Matese Ma alla fine Oggiano infila il pallone sotto l'incrocio dei pali Altro tentativo dalla distanza e pallone che finisce il porta Incredibile Federico Cardella Un gol più bello dell'altro come Oggiano Cardella pesca il jolly dalla distanza e fa 2 a 1 al quarantesimo Autore dei sottotitoli a cura di QTSS